Dopo l'approvazione del maxi emendamento, l'Ars ha dato il via libera col voto finale alla manovra correttiva da 550 milioni di euro, 32 voti a favore e 22 contrari. Nel corso dell'esame del collegato il gruppo PD ha tenuto un comportamento coerente, abbandonando i lavori in commissione bilancio nel momento in cui è stato violato l'accordo raggiunto in conferenza dei capigruppo, cioè quando è stata inserita la norma scandalo salva inelegibili e di finanziamenti al territorio si sono trasformati in mance elettorali anche da poche migliaia di euro. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del PD a Lars, siamo tornati a discutere il testo, prosegue, dopo che la norma salva inelegibili è stata stralciata così come avevamo chiesto e dopo che i finanziamenti ai territori sono stati decisi con un metodo differente, cioè attraverso provvedimenti amministrativi evitando di trasformare l'aula parlamentare in un consiglio di quartiere che vota norme da poche migliaia di euro. La Lega con il capogruppo Marianna Caronia ha rivendicato la norma che assegna 50 milioni di euro all'IRFIS per combattere il caro mutui. Alle famiglie siciliane con un'ISE inferiore a 30 mila euro verranno erogati contributi in base all'aumento delle rate dei mutui verificatosi nel 2022 e nel 2023 per effetto della crescita dei tassi. Circa 13 milioni di euro di contributi a sostegno di lavoratori e imprese del settore agricolo, agroalimentare e vitivinicolo sono il frutto di tre interventi distinti voluti dal governo regionale. Nel dettaglio è previsto un finanziamento da 8 milioni di euro alle cantine sociali, poi un contributo straordinario di 3,8 milioni di euro al consorzio di bonifica 10 di Siracusa per coprire i debiti di una condanna esecutiva che ha causato il blocco di tutte le spese, compresa quella per gli stipendi. Per la riqualificazione e la riclassificazione del personale dell'ente di sviluppo agricolo sono state destinate risorse pari a 1 milione e 200 mila euro. Altri 10 milioni e 700 mila euro sono in favore del personale regionale per l'anticipo dei pagamenti, delle spettanze relative al rinnovo del contratto 2022-2024. Sfumata la proroga fino al 31 gennaio 2024 per il cosiddetto stracciabollo che evitava di pagare sanzioni e interessi.